Mi sto soffermando molto sulle periferie, in particolar modo sono qui a San Donato, contrada di Talsano, per farvi vedere le condizioni davvero disumane in cui abitano i cittadini. I cittadini che, ricordiamolo, sono contribuenti e pagano le tasse. Allora, intanto c'è da dire, qui mi trovo presso una delle traverse rispetto al corso, tra virgolette, a via San Donato. Negli accessi, nelle traverse, acqua e fogna sono assolutamente inesistenti. Quindi, capito Melucci? Capito caro consigliere regionale ed ex consigliere comunale di Gregorio? Lo hai capito? Bene, voi strombazzate tanto, abbiamo portato acqua e fogna a Talsano e dintorni. Queste traverse sono cittadini di serie B, sono trattati da cittadini di serie B o di serie C, né acqua e né fogna. Melucci e di Gregorio, andate a raccontare favole agli altri, chiaro? State mentendo, sapendo di mentire, falsi e bugiardi. Un motivo in più per non votarvi. Anche a te, lo dico a te in modo particolare consigliere di Gregorio, che ti sciacqui tanto la bocca dicendo di quello che è stato fatto a Talsano e dintorni. Ma c'è un altro aspetto altrettanto grave. Vedete, questa strada è appunto il corso, la via San Donato. Qui ci sono gli accessi, le varie traverse e diventa la situazione particolarmente pericolosa quanto alla sicurezza. Perché la segnaletica è assolutamente insufficiente. Non c'è una segnaletica che appunto indichi, segnali la presenza degli accessi. E quindi questo ovviamente crea una pericolosità perché io sto camminando e non so che c'è una traversa e quindi mi può sbucare una macchina. Ne è sufficiente lì, sono sufficienti gli specchi che sono stati messi. Quindi già questa criticità assurda. Ma pensate, voglio proprio rappresentarvi questa situazione. Io mi trovo qui in questo accesso, in questa traversa. Nel momento in cui io devo entrare, devo uscire, devo avere sbocco sulla strada, sul corso, chiamiamolo corso, qui non c'è segnaletica, non c'è uno stop, ma non dico uno stop, neanche un segnale di dare precedenza. Questa è l'altra assurdità. Così come, vedete, qui le macchine sfrecciano, lì c'è un dosso, chiamiamolo dosso artificiale, un rialzo, un rallentatore di velocità, però più avanti si pone lo stesso problema di elevata velocità, misteriosamente non è stato messo. Evidentemente si doveva risparmiare. Quindi problemi di fogna e acqua, di, dicevo, sicurezza stradale. E poi, ecco, mi sfuggivo un altro aspetto importantissimo. Qui quando piove si creano davvero i laghi. Ecco, qui per esempio non c'è un grigliato. Attraverso un grigliato, le griglie attraverso le quali le acque, c'è lo scolo delle acque, lo sfogo delle acque, anche qui un grigliato non esiste. Signori, questa è l'amministrazione Melucci, questa è l'amministrazione Musillo, perché Musillo ha governato appassionatamente con Melucci, quattro anni e mezzo con uomini suoi, nella giunta e nelle partecipate. Dopo 21 anni di battaglie giornalistiche, contro tutto e contro tutti, ho deciso di scendere in campo da candidato sindaco, in prima persona. Conosco molto bene ogni punto della città. Migliaia, migliaia di denunce sono il migliore biglietto da visita per il mio impegno verso la città, verso il centro e verso le periferie. Per questo vi chiedo la fiducia. Migliaia di denunce sono il migliore biglietto da visita per il mio impegno verso la città.